Ciao ragazzi, ciao ragazze, siamo in un nuovo video tutorial da U.S.E.Q. per parlarvi delle vasi di capelli, delle protesi di capelli. Oggi vi parliamo della lace wig. La lace wig è una delle protesi totali femminili più richieste al mondo perché con la sua base permette un frontale totalmente visibile e perfetta traspirazione. Noi lo vendiamo a clienti bianche e a clienti di colore. Negli Stati Uniti spopola tra le clienti di colore e anche tantissime clienti bianche ce lo richiedono. Vi faccio vedere le differenti caratteristiche di questa base. In U.S.E.Q. i nodi del frontale sono totalmente sbiancati. La riga anche può essere fatta perché è totalmente naturale. In questo settore possiamo anche aggiungere un I.L.E.S. per creare una riga ancora più naturale. Permettetemi di farvi vedere come sono i laterali di questa protesi di capelli. Ricreano il laterale di una persona. Come vedete ha questa forma. Le altre protesi in lace di altre imprese non hanno questa caratteristica. Anche qui guardate stile flatback ricreando la forma che c'è in tutte le protesi. Normalmente le protesi di altre imprese sono così. Come vedete noi ricreiamo questo effetto e abbiamo i capelli leggermente all'indietro. Poi fonandoli, se non li volete così, li potete mettere più in avanti. Il frontale è totalmente naturale e non è come quello di altre imprese per donne di colore che qui creano dei nodi doppi molto evidenti e una bassissima densità. In noi abbiamo una buona densità per creare un frontale molto naturale e i nodi sono sbiancati. Questo vi permette avere un lace wig immediatamente mettibile senza dover fare grandi operazioni come quelle che vediamo in YouTube di donne di colore che vi spiegano come sbiancare, come aggiungere capelli. È un lavoro immenso. Invece con noi già vi arriva per poterla mettere. I capelli possono essere come quelli di queste due protesi economici europei oppure italiani oppure russi. Abbiamo in stock capelli economici europei e capelli medi italiani. In stock abbiamo alcune top line altrimenti va fatta su misura. Per fare una protesi di capelli in lace su misura in capelli top line ci vogliono circa due mesi e avrete una protesi in capelli russi di altissimo livello. Ma come potete vedere anche i capelli indiani sono di buona qualità e gli italiani sono ancora migliori. Sono protesi ottime che potete trovare nel nostro shop online mulesecu.net. Se aveste dubbi, se aveste domande vi invito a contattare per email o per whatsapp la nostra collaboratrice in Italia che vi spiegherà tutto circa queste protesi. Quali sono le caratteristiche delle protesi in lace? Sono tutte create con questo tulle. Il tulle è un french lace. In questo caso è un tulle fatto per una donna di colore quindi come potete vedere è marrone. Però lo abbiamo light pink per le donne bianche se siete chiaramente italiane e avete una pelle simile alla mia. Quindi non guardate questo colore. Essendo tutto il lace avete totale traspirazione. Che vuol dire totale traspirazione? Potrete andare a farvi il bagno, fare sport sudando e vi uscirà il sudore dalla cute. Bagnandovi vi entrerà l'acqua nella cute e avrete totale traspirazione. Sarà come riavere i propri capelli senza pensare più alla vostra alopecia che sono sicuro vi ha creato tanti problemi e tanti dispiaceri. Con le lace wig ritroverete la chioma di un tempo o anche più bella. Con invio immediato dalla fabbrica, migliaia di stock pronte per essere spedite in misura small, media e large. Con lunghezza di capelli che partono dai 20 cm ai 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e addirittura 60 cm. Con la possibilità come vi dicevo se volete una top line di ordinare in capelli russi certificati una protesi top line in circa due mesi. Se avete altri dubbi, se avete altre domande vi chiedo per favore di lasciare dei commenti al video, di dare like a questo video in modo tale da permetterci di crescere e permettere a voi di avere delle protesi di altissima qualità direttamente dalla fabbrica e con questi capelli che sono totalmente diversi e con queste lavorazioni che sono totalmente diverse da quelle di tutte le altre fabbriche in Cina. Noi in Ulessego cerchiamo sempre di innovarci, cerchiamo di darvi i prezzi migliori che possiamo, però abbiamo bisogno che voi ci sosteniate per poter continuare questa opera di miglioramento delle protesi di capelli e di miglioramento della vita di tante persone. Quindi compartite il video con le vostre comunità in Facebook o con le vostre amiche che hanno lo stesso problema, fateli vedere che ci sono delle possibilità di lace wig diversi da quelli là venduti per le donne di colore che hanno qui una zona alopecica, hanno qui una linea dritta, i cui capelli si elettrizzano dopo il primo lavaggio. Qui abbiamo delle protesi con una buonissima densità frontale senza esagerare, con una riga totalmente naturale, con nodi individuali alf nel frontale sbiancati, con capelli indiani, italiani o addirittura russi certificati, quindi qualcosa di totalmente diverso e che si adatta di più a una clientela europea e a una clientela che vuole una protesi di qualità, non che lui sia contenta per 80 euro di avere una protesi di carnevale in testa. Noi con pochissimo di più vi diamo tutte queste qualità differenti a molto minor prezzo di quello di tutti i rivenditori, quindi provateci e vi ricordo che abbiamo anche un canale Instagram, un canale Facebook, quindi se volete informarvi circa la nostra impresa ma anche in generale circa le protesi di capelli iscrivetevi e se questi video tutorial che vi spiegano tutte le basi vi piacciono aiutateci a farli compartire, a farli crescere per aiutare noi di New Le Seguo a continuare in questa opera. Vi ringrazio, ciao!